Sfida in piena zona play-out al grondone di Ponte Decimo. Si proteggono infatti il San Cipriano, terz'ultimo sei punti, e la Taros-Sarzanese, penultima, a una sola lunghezza di distanza. Gara valevole per la decima giornata del giorno A di promozione. La squadra ospitante è ancora secco di vittorie e sarà costretta a reagire, almeno in casa, se vuole provare a raggiungere le squadre lontane dal pantano play-out. Ormai tutte in doppia cifra in campionato. Stesso discorso vale per i Levantesi, che però possono vantare una vittoria, i danni del Forza e Coraggio, alla terza giornata del torneo. Partita che comincia con il ricordo della squadra di casa verso il Cagnone Rocky, mascotte dei Biancoazzurri, scomparso pochi giorni fa. Il match rimane bloccato sul centrocampo per la maggior parte dei minuti, senza che l'equilibrio fra le due compagini venga mai seriamente messo in discussione. Entrambe le difese sono attente, mentre il gioco offensivo è ancora molto sterile. Unico spunto offensivo è dei rossoneri, in ripartenza sul filo del fuorigioco scatta Piastra che tenta il pallonetto sull'uscente scala. Scavetto però troppo debole e l'estremo difensore blocca con facilità. Episodio dubbio al trentesimo nell'area di rigore del San Cipriano. Un giocatore sarzanese cade a terra in un contrasto di gioco. Marcatura troppo stretta, ma per l'arbitro Valisetta di Genova il rigore non c'è. Ultimo minuto punizione da fuori aria battuta da Bertolla che punta direttamente l'area. Sfera di gioco di poco fuori, finisce a lato. Prima frazione con poche emozioni e poche occasioni. Vedremo se si sbloccherà il risultato nella seconda frazione. La prima occasione del secondo tempo è al cinquantaduesimo, sempre con Piastra che si trova con scala per un nuovo tetatet. Il pallone stavolta è troppo potente e supera sia il numero uno di casa che la traversa. Prima vera occasione per il San Cipriano cinque minuti dopo con il Tarros sbilanciato in avanti. Ne approfitta Siani che si incunia nella linea difensiva in maniera regolare. Chiude bene qui Bertagna che rimane in piedi e chiude gli spazi per l'avversario. Nuovo episodio dubbio al sessantacinquesimo, stavolta nell'area della Tarros per un presunto fallo di mano. Il direttore di gara anche stavolta non fischia. La partita finalmente si sblocca, il neontrato Stilo si mangia la fascia sinistra e riesce a crossare in aria. Servire Siani lasciato solo, che si abbassia e devia di testa in aria. Marcatura importante per come e per quando è arrivata. Tarros sbilanciata per trovare il gol del pareggio e San Cipriano che attacca gli spazi pronta a colpire in contropiede. Ed è proprio in contropiede che i biancazzurri trovano il raddoppio. Crossa a cercare Stilo, pressato in aria, che si libera bene dei difensori rossoneri e con un gran dribbling a tu per tu con Bertagna non sbaglia. Gran giocata e partita chiusa. Match a tratti bloccato e confuso fra due dirette rivali per la salvezza fino a quando è entrato Stilo che con un gol e un assist è stato il vero e proprio break della partita. Finisce 2-0 al grondone.